Siamo al Teatro Sperimentale di Pesaro, uno dei due luoghi di questo doppio concerto di Capodanno con Giovanni Gnocchi e il suo violoncello, i due grandi protagonisti di questo doppio appuntamento. Per me è un grandissimo piacere essere di nuovo qua a Pesaro per un rapporto particolare che mi lega al territorio e proprio al calore umano delle persone dell'orchestra Rossini e una grandissima stima e riconoscenza col maestro Daniele Agiman che sarà il direttore d'orchestra per queste due serate e due concerti. Io suonerò il primo concerto di Dmitry Shostakovich, un brano composto nel 1959 in Russia, a Mosca e potrei dire che è proprio un brano che vede il trionfo del ritmo, è un brano che ha una parte importante molto martellante e in cui è impossibile non danzare, direi quasi heavy metal come brano però nel contempo abbiamo anche la parte centrale del concerto di Shostakovich dove il calore umano e il dramma e questa malinconia struggente fa ben comprendere anche la difficile situazione che vivevano i musicisti e i cittadini negli anni del regime sovietico e di tutti i divieti che erano imposti e attraverso i quali loro potevano cercare una strada nonostante questo per esprimersi. Quindi è un brano diciamo coinvolgente al 100% e che il pubblico si ricorderà per sempre. Ecco, il concerto di Capodanno è poi sempre una collocazione particolare, speciale, apre un anno che si spera diverso, soprattutto per voi musicisti. In questi giorni siete quasi dei superstiti tra le cose che si possono e non si possono fare. Io devo dire mi sento moltissimo fortunato perché appunto stavamo dicendo io vivo a Salisburgo in Austria e in Austria dal 17 novembre c'è stato un lockdown totale, cancellati tutti i concerti fino a metà dicembre e a Salisburgo è una delle regioni più colpite per cui appunto è un grandissimo privilegio che noi abbiamo qua in Italia di poter continuare a fare musica con l'orchestra, con l'organico completo, distanziati ma in una situazione del genere ben vengano le mascherine, ben venga il distanziamento e veramente godiamoci questo lusso che condividiamo con grande piacere, con grande amore col pubblico. Daniele Agiman, ultimi preparativi qui al Teatro Sperimentale per quello che è il concerto di Capodanno un momento che già di per sé è speciale, il Capodanno ha sempre una collocazione particolare anche a livello musicale ma è anche proprio una partenza per Sinfonica 3.0. Sì, una grande partenza, un programma importante a Pesaro con la difficoltà che sappiamo riparte insomma la situazione sanitaria non facilissima ma noi abbiamo voluto scommettere su figure nuove in orchestra, direttori nuovi, giovani, programmi sempre molto ambiziosi a partire proprio da quello di Capodanno. L'orchestra Sinfonica Rossini vuole offrire al suo pubblico che un pubblico attento partecipe anche quando le sfide sono le più grosse come in questo concerto di Capodanno, proponiamo un concerto quello di Shostakovich che non è proprio facilissimo all'ascolto ma è una grande scommessa perché sappiamo che abbiamo un pubblico fedele, amico e partecipa alle nostre proposte. Una scommessa che poi nasce su un doppio appuntamento. Assolutamente sì, Fano, Pesaro e poi addirittura quest'anno abbiamo un'anticipazione fuori regione quindi arriveremo rodatissimi, caldissimi con un nostro artista in residenza di cui siamo orgogliosi, Giovanni Gnocchi, un caro amico ormai dell'orchestra e la nostra migliore compagine.